Rixi, oggi l'onorevole Berrio, rivolgendosi al Premier Conte, lo ha invitato a studiare la Costituzione, ha usato questa espressione, a non fare il pupazzo, pupazzo ovviamente di Di Maio e di Salvini. È un Premier telecomandato, come qualcuno dall'opposizione sussurra, anche a voce non troppo bassa? Io non credo che ci siano Premier telecomandati, ci sono Premier che prendono la fiducia delle Camere e Premier che non prendono la fiducia delle Camere. Io credo che il contratto che è stato fatto di Governo, che è un vero e proprio programma per questo Governo, sia stato non solo condiviso col Premier che ha partecipato alla stesura, ma rappresenta un modo anche nuovo per interpretare una voglia di trasparenza nei confronti dei cittadini. Quindi io credo che invece ci sia la volontà del Premier di rappresentare l'intero popolo italiano. Lui più volte ha detto io sarò l'avvocato di tutti gli italiani, perché in questo momento è chiaro che quello che è uscito dalle urne è una volontà di cambiamento profonda rispetto a un Paese che ha perso troppe volte l'autobus. E mi spiace che Berrio ricordi agli altri di imparare la Costituzione italiana, quando lui ha fatto delle riforme come sulle province, che hanno dimostrato la pochezza anche degli approfondimenti dal punto di vista legislativo che il PD ha portato avanti in questi anni. Tanto è vero che oggi noi ci troviamo nel paradosso che non esistono più gli eletti in provincia, ma le province esistono, ma non ci sono i fondi per far sì che possano operare. E quindi si è creato un cortocircuito. Rixi, questi dati come li giudica? La soddisfano in qualche modo? Li vede propri suoi? La sorprendono? No, e devo dire che quando noi abbiamo portato il contratto nelle piazze, nei gazebo, si è avvicinata moltissima gente, anche elettori che non avevano votato il 4 di marzo per la Lega, né per i 5 Stelle, ma molti anche che avevano votato Forza Italia. È chiaro che c'era una grande attesa in questo momento di un governo che potesse essere un governo del cambiamento. Poi è ovvio che le promesse vanno mantenute e deve essere un governo della concretezza, ma noi che ne facciamo parte siamo i primi a chiedere che ci siano dei provvedimenti che riescano a tradurre in realtà quelle che sono dei propositi che sono contenuti dentro il programma di governo. Per noi è fondamentale, questo l'abbiamo detto più volte, non è un governo né di destra né di sinistra, è un governo che supera queste divisioni, punta a una concezione anche diversa, quindi a riappropriarsi anche di una certa dignità come Paese, visto che negli ultimi governi noi pian piano abbiamo perso ruoli a livello internazionale, a livello europeo, a livello anche di Mediterraneo. E poi stare dalla parte del cittadino, perché negli ultimi anni purtroppo i governi sono stati percepiti dall'opinione pubblica come vessatori, sia per le politiche di austerity, ma sia anche per l'atteggiamento che si aveva molto spesso rispetto alle esigenze che venivano manifestate dai nostri concittadini. In questo senso, lui dice, sarò avvocato del popolo, nel senso che lui si mette in una posizione assai diversa di quello che ad esempio era stato il governo Monti. Salvini ha praticamente detto che la flat tax porterà vantaggi, soprattutto ai ricchi. Può essere considerato uno schiaffo alla vostra base elettorale, che è popolare? Intanto Salvini non ha detto questo. Salvini ha detto una cosa un po' diversa. Anche perché vorrei ricordare i dati di oggi, che il 5% della popolazione dichiara di essere di un reddito che è superiore ai 130 mila euro. Quindi in realtà abbiamo un problema un po' diverso, che moltissimi, soprattutto i ricchi e ricchissimi, tendenzialmente non dichiarano in questo paese. Molti hanno residenze più o meno fittizie in paradisi fiscali, ci sono aziende che hanno delocalizzato la loro sede per non pagare in Italia, ma operano praticamente solo sul territorio nazionale. Il problema è che in un mercato competitivo, anche dal punto di vista fiscale, è ovvio che se tu sei nel mercato unico europeo, ma tu paghi in Italia come azienda molte più tasse che è nel Lussemburgo da un'altra parte, metti la sede da un'altra parte. Rizzi, però ci dica che cosa ha detto Salvini, perché oggi la polemica del giorno è stata, tutto il giorno si è detto che Salvini ha detto che i ricchi pagano meno tasse e che questo è giusto perché così muovono il mercato. Salvini ha detto semplicemente che ognuno paga in proporzione di quello che guadagna. Oltretutto ci sarà, come ha detto Conte, un'area di no taxation, cioè ci sarà una soglia sotto la quale non ci sarà neanche l'aliquota e ci sarà, come abbiamo messo nel programma, ma c'era anche nel programma del centro-destra, sulle famiglie più numerose delle agevolazioni sulle detrazioni dei componenti del nucleo familiare. Quindi io credo che oggi sia stata assolutamente una bolla mediatica senza senso, ma devo dire che in questi ultimi giorni qualsiasi cosa si dica, perché sulla flat tax, ma sulle infrastrutture, cioè c'è un continuo rincorrere la notizia quando invece credo che si continui a dire le stesse cose da due mesi, forse qualcuno non l'ha ancora capito, ma noi la flat tax la faremo, la facciamo partendo dalle imprese. Ma dov'è questa equità fiscale nel momento in cui voi avete applicato gli studi di settore, una tassazione che era studiata in un'economia che cresceva e che ristagna dal 2007? Come fate a pensare di continuare a andare avanti con un sistema fiscale nel quale il cittadino non sa quanto pagherà di tasse e un'azienda deve andare da mille consulenti per andare a cercare il modo di fare più o meno le detrazioni o le deduzioni? Ma anche qui però, scusami, abbiamo introdotto la dichiarazione dei redditi online, abbiamo aiutato i cittadini a ricevere la dichiarazione dei redditi online che si sono suicidati perché non sono potuti andare avanti. Allora evitiamo di fare propaganda sui risultati avuti dal governo. No, no, noi la propaganda non la facciamo, guarda, noi abbiamo perso le elezioni, anche se abbiamo fatto tante cose. Esatto, per cui avete governato male, lo potete dire per una volta, avete governato male, avete governato male e sul fisco avrei un momento dal professore. Rixi, professore, soprattutto volevo sentirlo sul condono, lo state facendo o no sto condono? Ma noi riteniamo che per iniziare un nuovo sistema fiscale, che come diceva il professore prima, deve essere intanto una semplificazione del fisco italiano che è uno dei più complicati con oltre 700 tra deduzioni, detrazioni e esenzioni che mette in moto un sistema per cui le piccole e le piccolissime imprese devono andarsi a pagare fior fiori dei consulenti per capire tutte le volte non si sa se sono in regola col fisco o meno e hanno 235 enti che vanno a fare le verifiche. Rixi, però è un condono o no? Su questo ci risponde proprio in maniera chiara? No, è una pace fiscale dopo un momento che io vorrei tornare dal 2016, che è stato una delle più grandi crisi economiche che ha subito l'economia europea nell'ultimo secolo e dove a delle aziende è stato chiesto di pagare delle tasse ma stiamo parlando anche di aziende piccole, piccolissime, medie, dagli ambulanti agli stabilimenti balneari che non sapevano neanche se l'anno dopo avrebbero potuto investire a causa della direttiva Bolkestein, piuttosto delle piccole, piccolissime aziende che si sono viste il loro fatturato crollare con delle crisi di liquidità e le banche che non gli facevano credito, malfisco e chiedere sempre più soldi senza andare perché è vero che sono state fatte delle manovre per la rotamazione ma sono state fatte postume. Allora quello che noi crediamo oggi è che convenga di più rimettere in moto l'economia è far rimanere aperte delle aziende che farle chiudere perché se le fai chiudere non solo vanno a casa i lavoratori ma nessuno paga più le tasse Alessandro Lamoretti, ho sentito un aggettivo tombale Il messaggio non si può dare in questa maniera se posso di dare un messaggio di rigore e di rispetto delle regole perché se cominciamo con un libera tutti oggettivamente non diamo un messaggio Guardi, il rispetto delle regole noi proponiamo anche di inasprire sicuramente le pene sull'evasione e avendo un sistema più semplice sono più facili anche gli accertamenti è chiaro però che per farlo dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di poter ripartire sono d'accordo con quello del 24 ore che bisogna mettere dei criteri sulla pace fiscale però è chiaro che non possiamo pensare che in questi anni ad esempio quello che è avvenuto nell'entroterra di tutte le nostre regioni italiane quando c'erano gli studi di settore perché è stato cambiato il nome ma il meccanismo è rimasto lo stesso per cui veniva tassato nella stessa maniera chi aveva un negozio nell'appennino e chi l'aveva in piazzetta a Portofino l'unico caso di tassa piatta applicato non sul patrimonio e non sul lavoro è stata fatta con l'acedolare secca e è l'unico caso in cui sono aumentate le entrate dello Stato perché tutte le volte che invece si spostano aliquote verso l'alto o si modulano in maniera differente le entrate sono sempre diminuite alla fine quindi probabilmente non è così vero che in automatico diminuiscono anzi il nostro scopo è di fare in prospettiva aumentare le entrate dello Stato per finanziare servizi, il welfare e altre cose per far questo in un mondo che è aperto perché comunque oggi un investitore sceglie il paese che gli dà più garanzie quindi la riforma della giustizia ma anche un problema di carattere fiscale è chiaro che oggi non è appetibile oggi chi fa impresa in Italia è praticamente uno che è votato al sacrificio perché oggi si ricava di più in fare investimenti finanziari che fare investimenti d'impresa anche perché sei più agevolato da un punto di vista fiscale questo non è accettabile Sì, la sorpresa il sì di Sgarbi? No, perché intanto Sgarbi diciamo che è un provocatore ci abitua a questo e anche ad altro poi credo che da questo punto di vista un'attenzione particolare va al fatto e bisogna dire che questo governo è nato col beneplacito anche del centrodestra quindi credo che ci fosse la... Sgarbi non ha detto proprio questo Sgarbi ha usato una sua interpretazione io quello che dico e ritengo è che un governo a questo paese bisognava darlo per varie settimane ci sono stati partiti che hanno pensato più a mollare il cerino acceso in mano di qualcun altro che prendersi la responsabilità noi abbiamo deciso di prenderci questa responsabilità insieme ai 5 Stelle anche perché si ricordava prima lo spread ma vorrei ricordare che qualche giorno prima i problemi dello spread c'erano uguali e non c'era la possibilità di mettere un governo in carica perché nessuno avrebbe avuto la fiducia delle camere che ci sono stati